Guardate qua siamo a Garda in provincia di Verona, qua vedete sono cantieri a tutto spiano che stanno costruendo case e altro, appartamenti, residence, fuochi, luspe, c'è stato e sta facendo qua sulla sinistra case e questo è tutto quello che ci porta questo tipo di amministrare con, abbiamo la macchina dietro, le spostiamo, adesso andiamo a destra praticamente, ecco qua vedete qua altre costruzioni caseggiati, insomma tutto un bailame di cantieri e la zona è stata messa su quadro, qua dove c'era una volta le risare, qua a posto del riso crescono case, cementi armati, appartamenti, vedete qua tutto un bel caos organizzato e questo che dobbiamo rendere grazie a chi amministra questo paese che ci dà tutto questo macello di cementi armati, ecco noi come gardesani questa cosa qua non le permetteremo più e cercheremo anzi di limitarle e cercare di capire come si è arrivati a fare questi fenomeni perché sono alquanto gravi e alquanto disastrosi per questo paese che una volta si chiama ancora la guarda ma che una volta aveva le bellezze, le bellezze pasagistiche e ora come vedete ha solo montagne di terra e di cementi armati.